buongiorno day after come tutte le partite hanno il loro day after ho letto attentamente molti dei vostri commenti poi praticamente li leggo per tutti poi ovvio che faccio fatica a rispondere e preferisco magari fare un condensato nel giorno dopo giustamente mi fate notare che è vero che la juve ha questo atteggiamento ma questo atteggiamento è anche figlio del fatto che qualcuno mi fa notare non c'è un modulo di gioco non c'è un sistema di gioco mentre invece lo spezia evidenziato un certo modo di giocare certe trame studiate eccetera 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 sì sono parzialmente d'accordo con voi però io vi dico anche che se è vero che un modulo può aiutare in casi di difficoltà può aiutare tutta la squadra a ragionare all'unisono è altrettanto vero che però se alla base c'è un atteggiamento di non so come chiamarlo sconforto paura rilassamento subito dopo un gol del vantaggio tu puoi avere tutti gli schemi che vuoi ma non riesci a metterli in pratica completamente cioè l'atteggiamento l'approccio mentale la questione mentale è alla base di qualunque situazione io credo sia che tu abbia un gioco preordinato precostituito collaudato provato e riprovato sia che tu come dire non lo abbia o ti voglia affidare all'estro dei singoli al concetto di base per cui si deve passare la palla al compagno più smarcato più libro più in grado di innescare un'azione eccetera eccetera se però non c'è questa situazione collegata che poi è il fulcro di tutto il nostro modo di vivere no il nostro il nostro sistema di vita è chiaro che è anche difficile che poi ti vengano gli automatismi di un gioco precostituito spero di essere stato abbastanza chiaro quindi sono parzialmente d'accordo in questo senso e la juve ha evidenziato questo tipo di limite di 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 sia a volte in caso di approccio alla partita sia in caso di gestione della partita stessa poi si può argomentare ripeto tante lo dico tante volte ragazzi sul gioco non gioco su quanto piaccia allegri quanto non piaccia allegri eccetera non pensiate che io mi sia divertito ieri a vedere una juventus che per mezz'ora dal gol di ken praticamente al gol di maria è stata bersagliata anche se paradossalmente le parate più importanti perché poi dopo il calcio è strano è incredibile cioè le parate più importanti quelle determinanti quelle che hanno salvato in un certo senso la serata per in le ha fatte sul 2 a 0 cioè quando già la juve era era ampiamente in vantaggio le azioni più pericolose lo spezia le ha create lì però è altrettanto vero che sì lo spezia ha riempito di più il campo aveva una percentuale più alta di possesso palla ci ha messo la garra quella che non si vede nella juve ma ragazzi ma ragazzi e qui mi rifaccio ad un altro punto che abbiamo sperimentato un sacco di volte e che è insito nell'essere la juve nell'essere la juve se tu giochi contro un avversario modesto non ci metti il 100 per cento è inutile stare qui a ripetercelo tante volte se l'avversario modesto gioca contro la juve ci mette il 200 per cento perdonatelo ormai quasi consueta interruzione non so se siete anche voi vittime di chiamate spam di società elettriche acqua potabile che dir si voglia non se ne può più veramente cioè veramente non se ne può più vabbè comunque questi ti chiamano 10 15 volte al giorno e tu devi naturalmente interrompere il video perché la telefonata ti interrompe il video riprendiamo dicevo il avversario ci mette il 200 per cento è un dato di fatto ragazzi e sarà sempre così perché battere la juve ma io ve lo dico tante volte battere la juve è la più grande soddisfazione che accomuna la più piccola squadra alla più grande squadra quantomeno in italia e in parte anche in europa facciatemelo dire in parte che in europa battere la juve è una cosa è un motivo di grande soddisfazione quando poi ti accorgi sei sul campo che la juve oltretutto ti regala tra virgolette metri ragazzi ti ingolosisci e la tua garra la tua determinazione è inversamente proporzionale o meglio direttamente proporzionale in questo caso alla tua alla diciamo alla all'atteggiamento remissivo della juventus le partite si possono spiegare anche così poi ci sono tanti modi un altro modo di spiegare le partite ragazzi è avere a disposizione di fuoriclasse è come di maria ma lo vedete come gioca è l'unico di questa squadra che gioca con serenità con la serenità e la semplicità del campione fa le giocate con la serenità e la semplicità del campione anche nei momenti difficili anche nei momenti in cui gli altri si fanno prendere dalla frenesia e questo fa la differenza tra chi è campione e chi non è campione tra chi è fuoriclasse e chi non è fuoriclasse non ce n'è il fuoriclasse gioca a prescindere dalla situazione della partita gioca sempre allo stesso modo e non si fa mai prendere dal panico dalla frenesia dalla paura dal timore di buttare tutto a mare è così e di maria è questo peccato peccato che di maria abbia firmato per un anno solo e qua ci sarebbe ad aprire un discorso lunghissimo che ben conoscete ossia rimarrà non rimarrà in base a cosa potrebbe decidere di rimanere in base a cosa potrebbe decidere di non rimanere è una situazione talmente ingarbugliata per cui io leggevo per esempio che sì c'è il barcellona che si sta facendo sotto ma lui sta molto bene a torino però la juve quando potrà fargli un'offerta eventualmente quando potrà fargli un'offerta quando sarà sicura di un certo tipo di futuro che la attende ma quando sarà sicura di un certo tipo di futuro a maggio perché a maggio si concluderà il secondo filone perché chi ne ha chiesto la proroga per arrivare a maggio il mese decisivo nel quale probabilmente mancheranno poche partite per recuperare posizioni se verrà inflitta un'altra pena di punti da scontare perché aveva bisogno di un supplemento di indagini per arrivare proprio a maggio a giugno la prima settimana di giugno finisce il campionato e tutto questo innesca ovviamente una reazione a catena un effetto domino che si va naturalmente a ripercuotere anche sul discorso che abbiamo fatto prima relativo a Di Maria se tu solo a maggio sai se farei l'Europa o non farei l'Europa se sei stato penalizzato o non sei stato penalizzato non so se Di Maria è disposto ad aspettare a maggio prima di valutare l'offerta della juve o se nel frattempo si è già accordato con qualche altra società essendo a costo zero è padrone di fare ciò che vuole non c'è una società che lo frena non c'è una società che gli dice aspetta parliamo no capite sono tutti i rigagnoli di questo fiume principale che è lì in attesa di sapere se deve travolgere ulteriormente la Juve oltre a ciò che ha già fatto siamo al 20 di febbraio otto giorni di tempo ancora per la società per depositare il ricorso presso il collegio arbitrario del CONI poi in tempi relativamente brevi verrà fissata l'udienza quindi in marzo ci dirà se la Juve ha 47 punti in questo momento o ne ha 32 se deve ragionare su un secondo posto in classifica secondo posto in classifica nonostante tutto o se deve guardarsi ancora alle spalle è una situazione veramente allucinante allucinante che non pensavo un giorno di dover commentare ragazzi la chiudo qua per il momento vi do appuntamento a questa sera con il secondo video appuntamento anche sul numero 10 per eventuali eventuali magari aggiornamenti di mercato vediamo ciao 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 ciao